Superbike, lo spettacolo dell'alta velocità e di scena per Gusa. Dal circuito siciliano seguiremo in diretta domani alle 17.45 il campionato italiano, mentre domenica alle 17. Un salotto per parlare, discutere, raccontare. Dal 25 settembre con Nino Castelnuovo a Specchio dalla vita. Di nuovo buongiorno. Si è concluso in Belgio il sequestro della famiglia Gerine, la cittadina di Tilf. Gli ostaggi, madre e due figlie, sono stati liberati. Il capo dei sequestratori è stato ucciso e gli altri due arrestati dalla polizia. L'epilogo si è avuto nella notte e secondo la polizia belga tutto è avvenuto nel migliore dei modi. Gli ostaggi sani e salvi, il capo dei banditi ucciso e gli altri due catturati. Il riscatto, oltre un miliardo di lire, è recuperato. Il sequestro era iniziato sabato scorso alle 21. Dopo oltre sei giorni di estenuanti trattative con la magistratura belga, le due bambine venivano liberate nella serata di ieri dopo il pagamento del riscatto. Poi i malviventi fuggivano in macchina con la madre che rilasciavano nei pressi di Liegi. Fallito il tentativo di raggiungere l'Olanda, i banditi si barricavano in un appartamento subito circondato dalla polizia. In un primo scontro a fuoco moriva il capo banda, il francese Philippe Delers, 28 anni, specializzato in sequestri ed evasioni. I suoi complici si rifugiavano sul tetto dello stabile, ma presto si arrendevano. Uno dei due è ferito. L'incubo finiva verso le 2 di stanotte, dopo 140 ore di angoscia. Gran Bretagna l'attentato alla caserma militare nel Kent. Il giorno dopo la strage è polemica, polemica per le mancate misure di sicurezza. Intanto si preparano i funerali per le 10 giovani vittime dell'esercito inglese. In uno scenario da tragedia, Dill, gli esperti inviati da Londra, stanno cercando di ricostruire attimo per attimo la dinamica dell'esplosione che ieri ha fatto strage tra i giovani musicisti dei Marines britannici. Nel padiglione squarciato dallo scoppio e nei dintorni, le squadre di soccorso hanno praticamente finito il loro compito. In ospedale una decina di feriti e in gravissime condizioni. Ogni dubbio sulla natura terroristica dell'esplosione sembra ormai dissipato, anche se le autorità, almeno ufficialmente, ancora non avallano la tesi dell'attentato, ma è stata l'ira con usuale puntualità a firmare la strage. Gli redentisti irlandesi d'altronde l'avevano preannunciato. Il ventesimo anniversario dello sbarco britannico nell'isola sarebbe stato ricordato a suon di bombe e così, insieme ad un'ondata di commozione, è polemica. Oggi in Gran Bretagna, polemica per le mancate misure di sicurezza per una strage annunciata che forse si sarebbe potuta evitare. Il primo ministro inglese, signora Thatcher, ha preso dell'attentato a Dill mentre era in volo per Mosca dove è giunta oggi. In mattinata ha avuto un colloquio con il presidente sovietico Gorbachev al centro dell'incontro i problemi degli armamenti e proprio sugli armamenti Stati Uniti e Unione Sovietica hanno trovato nuovi, importanti punti di convergenza nel corso del vertice tra i ministri degli esteri dei due paesi, Baker e Shevardnese. Il risultato più importante riguarda le reciproche ispezioni durante i test nucleari. Per quel che riguarda invece il vertice tra Bush e Gorbachev, forse stasera verrà resa nota la data. Con ogni probabilità il summit si svolgerà nei primi mesi del 1990. In Italia, dopo l'annuncio di ieri del Consiglio dei Ministri, puntuale è scattato alla mezzanotte l'aumento a sorpresa dei carburanti. Da questa mattina dunque la super costa 1.375 lire al litro. L'aumento di 15 lire non ha risparmiato nemmeno la benzina senza piombo, che così è passata a 1.400 lire al litro. 16 lire d'aumento invece per il gasolio per autotrazione, mentre quello da riscaldamento è salito di 18 lire. Domani in Italia voli regolari. Il ministro dei trasporti Bernini ha infatti deciso la precettazione dei controllori di volo di Roma. Il ministro ha anche confermato la sua decisione di incontrare il prossimo 27 settembre le organizzazioni sindacali della categoria. Lo sciopero previsto per domani era stato indetto dalla LICTA, il più forte sindacato del settore. L'agitazione avrebbe provocato la cancellazione di circa 200 voglia. Questa notte in Italia si torna all'ora solare. Alle 3 del mattino, ora convenzionale, gli orologi dovranno essere spostati indietro di 60 minuti e dunque si potrà riprendere l'ora di sonno perduta sei mesi fa. Alle 3 antimeridiane inoltre entrerà in vigore anche il nuovo orario invernale delle ferrovie italiane. Adesso un minuto di pausa, prima delle altre notizie, tra poco oggi torna con un panorama di altre notizie dal mondo. Vi aspetto. Only by Julio Iglesias Only solo per te Onda CRM 125 Rock and Roll Onda CRM 125 Presenta Grit Balls of Fire Io sono il re, ho un talento che mi è dato da Dio Grit Balls of Fire Dennis Quaid è Jerry Lee Lewis Con lui il rock prese fuoco E con Onda Vedi, senti, vinci Vieni al cinema Facci va L'America Tosso e Facci va Facci va Il Libano inizia sotto buoni ospici l'attuazione del piano di pace arabo Nella notte infatti il cannone è attaciuto quasi sempre Per il pomeriggio in programma una riunione nei pressi della cosiddetta linea verde di Beirut del comitato interlibanese previsto dal piano di pace della Lega Araba Proprio il comitato era stato al centro di molte polemiche superate ieri quando il capo del governo cristiano aveva improvvisamente annunciato l'accettazione di tutti i punti del piano Il disastro del DC-10 francese è precipitato martedì scorso nel Niger accertata la presenza di esplosivi a bordo dell'aereo Questi i primi risultati della commissione d'inchiesta che sta indagando sull'incidente Negli Stati Uniti intanto l'ufficio nazionale della sicurezza trasporti ha accertato le cause della sciagura del 737 della US Air precipitato mercoledì scorso a New York L'incidente sarebbe venuto per un errore del copilota Costantin Williams L'ente governativo per l'aviazione civile gli ha immediatamente ritirato la licenza e lo stesso ha fatto con il primo pilota del 737 Ugo, l'uragano più violento degli ultimi dieci anni, ormai non fa più paura Il peggio è passato, almeno secondo gli esperti Ridotto a poco più di un forte temporale, Ugo ora viaggia verso il Canada Per la città più colpita, Charleston, nella Carolina del Sud, intanto, è il momento dei bilanci Otto morti e danni per decine di milioni di dollari, una catastrofe Il presidente Bush ha dichiarato aria disastrata alla zona investita dall'uragano Il rischio ora è rappresentato dalle piogge torrenziali che potrebbero causare nuove inondazioni E passiamo adesso dal piccolo schermo al grande schermo Fra meno di un mese, il 20 ottobre, uscirà in Italia Batman Il film di Tim Burton che rappresenta l'evento cinematografico dell'anno Abbiamo intervistato proprio Batman che ieri era di passaggio a Roma Attenzione, è da questo dettaglio la bocca che anche lo spettatore più sprovveduto Dovrebbe riuscire a riconoscere sotto la maschera Batman Ed eccolo Batman, Michael Keaton, l'eroe indiscusso, eroe fumetto ed ora eroe dello schermo Keaton, come si fa a diventare Batman? Mi sono avvicinato al ruolo come a qualsiasi altro DJ Keaton Non ho mai letto il fumetto, non conoscevo la storia Ho letto la sceneggiatura, ho studiato il personaggio Ho tentato di rendere Batman vulnerabile affinché il pubblico si identificasse con lui Ma allo stesso tempo l'ho reso più misterioso possibile per farlo scoprire lentamente Una sorta di Clark Kent Superman dunque, con meno poteri ma di maggior successo Il film è finora incassato quasi 350 miliardi di lire Nel fumetto cinematografico accanto a Keaton giocano, si fa per dire, Kim Basinger E un eccezionale Jack Nicholson, l'antagonista Joker, mattatore più scatenato che mai Credo che Joker, interpretato da Nicholson, sia il risultato di un buon mix In Joker c'è una parte oscura e una parte più luminosa E' un personaggio più complesso di Batman Può l'attore Keaton togliersi per un attimo gli occhiali e mostrare gli occhi di Batman? All'età di 101 anni è morto ieri a New York il compositore Irvin Berlin, il papà di White Christmas A dare le notizie è stato il genero Alton Peters Berlin, ebreo russo emigrato nel 1893 negli Stati Uniti Aveva scritto circa un migliaio di canzoni Tra queste, oltre a White Christmas, God Bless America Non ha un posto nella musica americana, aveva detto di Berlin un altro compositore Perché è lui la musica americana E con quest'ultima notizia chiude oggi Vi lascio adesso le notizie dello sport Per un aggiornamento delle notizie, appuntamento alle 19 Buon proseguimento di giornata 25 settembre 1989 Per qualcuno sarà un lunedì come tanti Per Telemonte Carlo una data importante Comincia per la nostra emittente un autunno veramente speciale Ricco di piacevoli novità, di gravite e conferme e di nuove idee Il tutto all'insegna della professionalità, della competenza, dell'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto Una straordinaria avventura che dimostra la volontà di Telemonte Carlo Di acquisire sempre più prestigio e maggior credito verso i telespettatori Un obiettivo che si concretizza nel volere estendere il nostro palinsesto A un totale di 18 ore giornaliere Dalle 7 e 30 del mattino alle 2 di notte Con una programmazione mirata ai diversi target di pubblico Come nella nuova fascia pomeridiana Interamente pianificata per i giovanissimi Dai cartoni animati di snack che comprenderanno anche le favole di Anders E i classici della letteratura per ragazzi A Giro Giro Mondo Un inedito gioco a quiz che accompagnerà i più piccoli in un divertente e istruttivo viaggio Alla scoperta del nostro pianeta E lunedì prossimo tornerà sui nostri schermi Clip Clip L'esplosivo contenitore di immagini e suoni provenienti dall'universo musicale Dal 25 settembre qui a Telemonte Carlo Da lunedì a venerdì alle 14.30 Sì, tanta musica, servizi speciali, ecologia, curiosità Qui a Clip Clip Una straordinaria galleria di personaggi Una grande varietà di temi affrontati Alti indici di ascolto e di gradimento Stiamo parlando di Specchio della Vita Un programma di grande successo giunto alla sua terza edizione Condotto da Nino Castelnuovo Buonasera Due parole su Specchio della Vita 3 Ci sono stati dei cambiamenti Quest'anno, come vedete, la scenografia è diversa Non ci sono più le sedie per far sedere un pubblico Perché il pubblico quest'anno non ci sarà più Ci saranno degli amici scelti da noi Che fanno parte un po' dei caratteri Che quotidianamente noi contattiamo nella nostra vita Giorno per giorno Altra novità è che forse quest'anno io farò poco il conduttore Sarò soprattutto padrone di case Perché la trasmissione verrà condotta soprattutto dagli amici del divanone Le news hanno sempre avuto un ruolo fondamentale a Telemonte Carlo Grazie ad una precisa collocazione nel palinsesto E a una linea editoriale originale, spigliata, esauriente Un modo diverso di fare informazioni Arricchito da programmi da attualità Che sposano l'intrattenimento con il giornalismo Al servizio del telespettatore Ormai credo sappiate tutti che importanza hanno le news nel palinsesto di Telemonte Carlo Però per il momento permettetemi di non parlare dei telegiornali e dell'informazione hard Ma di iniziare con TV Donna TV Donna è stato l'anno scorso il grande successo di Telemonte Carlo Un successo che ha forse colto di sorpresa addirittura noi Un appuntamento quotidiano, pomeridiano, condotto da Carla Urban Quest'anno TV Donna e Carla Urban ritornano alla stessa ora TV Donna torna, cambia un po' per non annoiare Ma non troppo per non tradire Novità sì, l'avvocato, il veterinario, lo psicologo e tantissime altre cose I nomi? Tina Lagostana Bassi, il nostro avvocato Alberto Bevilacqua, il nostro amico per i libri, ma lui già lo conoscete E Francesca Marzotto per le piante E ovviamente la amica di tutti, Vilma De Angelis Per cucinare con voi e per voi E stiamo lavorando anche a un quiz Per tutto il resto, vi aspetto il 25 Così conosciamo insieme tutte le novità Dicevamo del grande successo di TV Donna Un successo che ci ha convinti a raddoppiare l'appuntamento con TV Donna Ed è nato così, TV Donna mattino, tutti i giorni Dall'undì al venerdì alle 11.30 Amici di Telemonte Carlo, vi invito a giocare con noi Non a tennis, ma a un nuovo gioco Che andrà in onda ogni mattina per 5 volte alla settimana Su TV Donna mattina Vi ricordate Paroliamo? Il quiz che ebbe tanto successo tanti anni fa Anche questo sarà un gioco legato alle lettere Si chiamerà gioco di parole Vi farà vincere tanti gettoni d'oro Sarà facile, divertente E vi raccomando, non mancate Un'altra novità del parincesto di Telemonte Carlo News è Ladies and Gentlemen Un settimanale che partirà lunedì 25 Tutti lunedì sera intorno alle 22.20 Che cos'è Ladies and Gentlemen? Il sottotitolo recita settimanali di tentazioni scelte Con una formula posso dirvi è Un settimanale che vuole raccogliere per immagini Tutto ciò che tradizionalmente interessa agli uomini, alle donne Quindi dai motori alla bellezza, alla cosmesi, alle interviste E devo ancora parlarvi dell'informazione hard Dei telegiornali in particolare che ho lasciato in fondo solo per comodità di impaginazione Ma che continuano a rappresentare il grande amore di questa rete Dunque nel parincesto di Telemonte Carlo 89-90 Gli appuntamenti classici dell'informazione tornano Avremo alle 13.30 oggi, mezz'ora Alle 20 TMC News, un'altra mezz'ora di informazione E infine in seconda serata intorno alle 22.30 stasera a Gnoso Questi tre appuntamenti sono legati l'uno all'altro Da Telemonte Carlo in forma I nostri brevi flash di informazione che fanno da Interprogramma Naturalmente ritorna anche l'appuntamento con CBS Evening News Il telegiornale di Dan Radar tutte le mattine a partire dalle 7.30 Bene, questa è l'informazione sul Telemonte Carlo Un'informazione che spero scoprirete insieme a noi ogni giorno Più dinamica, completa, senza frontiere Negli ultimi tre anni Telemonte Carlo è diventata un indiscutibile punto di riferimento Per tutti gli sportivi italiani L'opportunità di trasmettere in diretta Ha sempre assicurato un'ampia copertura di tutti gli avvenimenti sportivi internazionali e italiani più importanti Contradistinti dalle voci ormai amiche dei nostri telecronisti e dagli autorevoli commenti dei nostri esperti È un anno importante per lo sport questo È l'anno dei mondiali di calcio che Telemonte Carlo affronterà con la consueta grinta, determinazione e professionalità La nostra redazione sportiva sta lavorando con entusiasmo E sta preparando una programmazione veramente speciale che non finirà di stupirvi Come sempre comunque ci faranno compagnia per l'arco di tutta la stagione i nostri super esperti Con la nostra guerritissima squadra di esperti saremo puntualmente presenti su tutti i grandi avvenimenti dello sport mondiale Cominciare dai Gran Premi di Formula 1, ai Gran Prix di Atletica, alla Coppa del Mondo di Ski, il tennis e naturalmente i campionati del mondo di calcio Il calcio farà un po' la parte del leone su Telemonte Carlo quest'anno Vi proporremo tutte le partite più importanti di qualificazione Italia 90 E tutte le amichevoli più importanti delle squadre che si saranno classificate per la fase finale E poi ancora l'esclusiva del campionato di calcio brasiliano e Mondo Calcio, la trasmissione che tutti i venerdì vi propone Un'ampia panoramica dedicata al calcio internazionale Avrà un'ampia pagina dedicata anche a Italia 90 E tra le novità le regole del gioco Un'iniziativa che abbiamo preso con l'AIA e la Fede del Calcio Per portare un contributo alla lotta contro la violenza Gli arbitri internazionali spiegano in trasmissione i casi più discussi del regolamento del calcio Questo per evitare inutili polemiche dovute magari alla non perfetta conoscenza del regolamento E' una nata cruciale quella che ci accingiamo con la redazione sportiva di Tere Monte Carlo ad affrontare Infatti veniamo da tutta una serie di grandi successi, di pubblico e di critica Per come abbiamo seguito, trattato, arricchito con tanti servizi Le ultime grandi manifestazioni internazionali Parliamo delle Olimpiadi, estive, invernali Di ogni tipo di campionato del mondo che abbiamo trasmesso in diretta E non, ma comunque di tutti gli sport Ed ora non vogliamo essere da meno Accettiamo questa grande sfida per i mondiali inovando Un avvenimento incredibile Non ci piace dormire sugli allori E quindi vedrete come seguiremo magnificamente questa manifestazione Una vera alternativa a tutto e a tutti Non parliamo di quello che faremo Delle centinaia di persone che metteremo a lavorare Delle troupe che seguiranno le squadre in tutti i posti dove vanno In tutte le città E' una sorpresa che vi faremo Ma poi abbiamo anche un altro grande impegno Ogni giorno abbiamo quattro quotidiani sportivi Pensate, quattro Sport News, sportissimo quando lo sport diventa spettacolo TMC News e stasera sport Un'ora di rotocalco sportivo tutte le sere Un impegno grande che affrontiamo con grande decisione Sicuri di farvi ancora un grandissimo servizio Non mancate, ci vediamo presto su Telemonte Carlo Linea diretta con lo sport Dalla computer grafica più sofisticata E dal genio creativo dei nostri art director Sono nate le nuove sigle della nostra programmazione Se per le news la grafica segue una linea coerente Per tutte le altre sigle Il visual è stato concepito con lo stesso criterio con cui si crea un commercial Il titolo del programma è dunque un protesto per raccontare una storia 18 ore di programmazione giornaliera Una moderna veste grafica Nuovi programmi Un'informazione completa e indipendente Lo sport come evento spettacolare e di grande intrattenimento In sintesi una nuova Telemonte Carlo Diretta a un pubblico che vuole una televisione utile e intelligente Un'esigenza che è diventata il nostro obiettivo principale Nella realizzazione di un'immagine sempre più professionale e competitiva I ritmi più travolgenti I video più esplosivi Dal 25 settembre Clip Clip cambia musica Un'esigenza che sia